Non si sta tranquilli neanche in convento. I vandali stavolta hanno preso di mira le suore francescane di Villa Santa Lucia, ma non si sono limitati ai danneggiamenti. Hanno anche iniziato a bestemmiare sotto le finestre delle religiose. Questa almeno è la ricostruzione eseguita dagli investigatori, che al termine delle indagini hanno denunciato tre ragazzi del posto. I fatti sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica intorno a luna. Protagonisti alcuni giovani che hanno prima danneggiato due auto di proprietà delle suore, parcheggiate proprio nei pressi del convento di Villa Santa Lucia, iniziando poi a urlare sotto le finestre del luogo di culto. Le sorelle hanno deciso a quel punto di chiedere l'intervento dei carabinieri. Quando i militari del capitano De Luca sono intervenuti sul posto, del gruppetto molesto però non c'era più traccia. Sono però state avviate delle indagini che hanno permesso ai carabinieri di identificare tre giovani, poco più che ventenni. Sono stati denunciati per danneggiamento e disturbo della quiete delle persone.